Il velivolo a energia solare Solar Impulse è atterrato nella serata di lunedì a Phoenix in Arizona. Questa decima tappa del suo giro del mondo ha visto Solar Impulse, pilotato dallo svizzero Andre Borschberg, volare per 1200 km da Mountain View in California per 16 ore, sorvolando il deserto di Mojave. La prossima tappa, l'undicesima, avvicinerà l'aereo a New York, da dove dopo una breve pausa tenterà il volo transatlantico verso l'Europa, per poi raggiungere Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, uniti da dove è partito il 9 marzo del 2015. Il grande obiettivo della missione è quello di dimostrare che le tecnologie pulite possono raggiungere l'impossibile.